Siamo con Matteo Ferrari, pilota dell'Onda San Carlo Junior Team al Campionato Italiano Velocità, tappa di Misano, fine luglio dei pilatori. Matteo, questa tappa è speciale, vero? Perché abbiamo un bel po' di wildcard provenienti dal Mondiale e si preparano alla gara che sarà più o meno fra un mese e mezzo, giusto? Sì, sì, ci sono molte wildcard come Donnelli e Rinse e sono davvero molto contento perché ci si può confrontare con i piloti che sono già arrivati a un livello più superiore e quindi ci dà più grinta per fare meglio questa gara. Perfetto, tu hai finito appena il turno della mattina, giusto? Il primo turno della giornata, con chi ti sei confrontato di più? Più che altro con Rinaldi, Calia, sono andato abbastanza bene, sono quattro stamattina, adesso poi oggi pomeriggio rischeremo a migliorare, spero, e vediamo come andrà a finire. Perfetto, doppia gara sia sabato che domenica, direi che è il caso di guardarla, vero? Sì, sì. Perfetto, ci vediamo dopo, ciao!